Allora, eccoci qua ragazzi, oggi vi parliamo del corso Accelerare le vendite, un corso estremamente interessante. Ciao Eliano, come stai intanto? Bene, grazie, buona giornata, anch'io desidero seguire il tuo pensiero e anticipare i contenuti di questa nostra bella iniziativa, utile tra l'altro. Ottimo, allora abbiamo deciso di creare questa serie di webinar che si chiama Accelerare le vendite, una serie di webinar che sono proprio, diciamo, nascono dall'esigenza, non tanto di ripartire, come dicono tante persone, perché noi non siamo mai fermati, ma dal concetto di accelerare, cioè siamo sempre rimasti sul pezzo, però adesso è arrivato realmente il momento di accelerare. Come facciamo accelerare, cosa possiamo fare? Allora, questa serie di webinar che abbiamo realizzato proprio parte da questa esigenza, si chiama Accelerare le vendite, sono sei webinar che si terranno da settembre a dicembre, qua ci sono tutte le date, adesso li vedremo nel dettaglio, più un bonus, un webinar, diciamo, per chi accede a tutta la serie di incontri per confrontarsi sui risultati. Ma, bando alle ciance, partiamo subito a analizzare i vari webinar. Allora, Eliano, il primo webinar che terremo, otterremo l'11 settembre, si chiama Fissare appuntamenti a freddo al telefono e gestire la mail di richiesta. Di cosa parleremo in questo webinar? Sì, grazie. Il titolo è di per sé eloquente. È un titolo semplice che corrisponde ad una necessità reale. Se vuoi vendere, devi andare dai clienti. Bisogna fissare degli appuntamenti. Fissare appuntamenti, ma fissare appuntamenti telefonici. Quindi c'è tutta la costruzione concreta della telefonata, ma non ad un cliente qualsiasi, un cliente freddo. Freddo è una dicitura un po' usata. È un cliente, diciamo, mai visto, mai conosciuto. Tu hai il suo numero di telefono, tu hai la sua mail, tu hai già avuto modo di avere questo numero telefonico, hai delle indicazioni generiche, potresti anche non avere nessuna telefonata. È la vecchia telefonata a freddo, dove il tasso di mortalità è elevatissimo. Proprio perché il tasso di mortalità è elevatissimo, in questo webinar tu avrai la possibilità di individuare il tuo giusto interlocutore, costruire fisicamente realmente la telefonata, andare a studiare le parole e guidare le possibili obiezioni che ci sono, superare il filtro, perché qui in mezzo tu lo sai, c'è il filtro, c'è il filtro che blocca, che ostacola, che ti chiede il perché, che ti dice mi mandi la mail. Ecco, questa è il mi mandi la mail. Andremo anche a rispondere a cosa dire, cosa fare, come farla queste mail di richiesta. È un webinar il cui contenuto è semplice, ma è molto, molto focalizzato. Alla fine del webinar tu puoi, cinque minuti dopo che hai spento il tuo computer, fare la telefonata, cinque minuti dopo puoi gestire le mail, perché ti daremo e soprattutto ti darò quelle che sono i contenuti per fare una telefonata, il cui scopo è fissare l'appuntamento ad un cliente mai visto e soprattutto mai sentito, con un tasso di mortalità estremamente alto. Questo andrà bene, sia che tu hai il numero, il nome, sia che non hai il nome. Ti diremo anche come fare ad arrivare al giusto interlocutore e tante altre cose, ma è un segreto per adesso, per adesso, per adesso. Ottimo. Bene, il secondo webinar, il webinar del 25 settembre, invece, riguarda la prima visita, come presentarsi e cosa dire ai tuoi potenziali clienti. Beh, Piero, qui è molto semplice. Dopo la telefonata, dopo la presa dell'appuntamento, c'è la prima visita. Ora, la prima visita è proprio la prima volta che tu ci vai. Ora, cosa vado a dire a questo interlocutore la prima volta che ci vado? Gli vado a raccontare la rave e la fava che noi siamo i leader del mercato, che il nostro prodotto è il prodotto migliore, siamo i più bravi, siamo qui. Fallo, otterrai un buco nell'acqua. Ecco, la domanda è come si costruisce la prima visita. Qual è lo scopo della prima visita? Che cosa vado a dire e che cosa soprattutto non dire? Ma in questo webinar scoprirai una cosa importante, il concetto del giusto interlocutore. Perché dovrai fare la prima visita non con un interlocutore qualsiasi, ma con quello giusto. Ma chi è il giusto interlocutore? Quanti sono questi giusti interlocutori? Che cosa vado a dire? Vado a dire la stessa cosa a tutti con lo stesso criterio e lo stesso metodo? O bisognerà costruire la prima visita sull'interlocutore che abbiamo deciso di visitare? Questo è lo scopo di questo 25 settembre, che in un certo senso rafforza anche quello della telefonata. Perché quando parteciperai ad entrambi, Piero, loro saranno in grado di rafforzare la telefonata in funzione della prima visita. Che cosa ti dice lui in prima visita? Che cosa affrontare in prima visita? Esiste una chiave, tra virgolette, di ingresso che mi permette di aprire la sua porta? Si parla molto di fiducia, soprattutto nella prima visita, però ragazzi, piantiamola di dire la fiducia del cliente. La fiducia la devi conquistare, la fiducia la devi dimostrare di essere un uomo che ha una potenzialità fiduciaria. Quindi il cliente non è che ti dà la fiducia così, devi meritartela, devi costruirtela. Questo è lo scopo. Ottimo. Nel webinar del 16 ottobre, invece, affronteremo il tema dell'uso delle domande nella trattativa di vendita. Qua, Piero, si sfonda una porta aperta. Qua tutti spiegano le domande, qui tutti sono bravi a fare le domande, qui c'è tutta una teoria sulle domande. Il risultato è che il venditore non fa domande, perché sono troppo complicate. La domanda è molto semplice. Qual è lo scopo delle domande? Quali domande occorre fare? Ma noi, Piero, non daremo delle tecniche, perché non c'è la tecnica della domanda. C'è la capacità di fare delle domande al cliente in funzione di quello che noi vogliamo sapere. E quindi verranno date due tipi di domande. Una saranno domande di tipo, non svelo il segreto, e l'altra saranno domande di tipo, qui te lo dico, evocative. Io, noi siamo, ma in particolare ho costruito la domanda evocativa. Evocare, perché noi siamo tutti figli dei clienti che comperano. Ma in questo webinar, con Piero, abbiamo pensato a clienti che non hanno voglia di comperare da te. Non hanno neanche la più pallida idea di avere dei bisogni, di avere delle necessità. Stanno bene con i loro fornitori, ma per quale motivo ti devono fissare l'appuntamento? Per quale motivo devono rispondere alle tue domande? Ecco, qual è la modalità evocativa di evocare nella mente del cliente quello che lui forse ancora non ci ha pensato? L'uso delle domande evocative sarà importante anche nella telefonata. Quindi vedete che questi tre webinar, la telefonata, la prima visita e l'uso delle domande, è vero che vengono presentate con Piero in maniera diversa, l'uno diverso dagli altri, ma col tempo voi li potete collegare e entrambi questi webinar si autosostengono insieme. L'uno aiuta l'altro. Ottimo. Nel webinar del 30 ottobre invece vedremo come gestire le obiezioni. È chiaro, no Piero, il cliente non è che sta zitto, il cliente non è che beve tutto quello che dici tu, il cliente si dice, il cliente dicono, fa delle obiezioni. Ma la cosa importante in questo webinar è che il cliente non fa obiezioni. Questo è un grande capovolgimento. Il cliente non fa obiezioni. Il cliente fa il cliente. E il cliente cosa fa? Esprime il suo punto di vista. Che a volte non coincide con quello che vorremmo che lui ci dicesse. A noi ci piacerebbe che dicesse sì, molto interessante, lo compro. A noi ci piacerebbe che ci dicesse, caro Cominetti, lei è il messaggero della civiltà digitale e tutto quello che lei dice va bene per me. No, ma no, ma dove sta sta roba? E non è che fa delle obiezioni. E lui dice quello che pensa, no? Lui dice quello che vuole dire, che c'ha già i fornitori. Perché vuoi andare da quello che non ha i fornitori, ma non andarci neanche. Lui dice ce l'ho a un prezzo migliore. Ce l'ho con degli sconti diversi. Voglio dire, il cliente sostiene il suo punto di vista. Accettalo. Se noi siamo in grado di accettare il punto di vista dell'altro, sarà anche più facile e più difficile poi guidarlo. Questo lavoro delle obiezioni si incastra nella telefonata, si incastra nella prima visita. Cioè, si incastra come una scatola cinese in tutti gli altri tre webinar precedenti. Quindi, al 30-10, tu sei in grado di avere quattro strumenti che si autosostengono. Capace di gestire la telefonata, capace di gestire la visita a freddo, capace di l'utilizzo delle domande nella trattativa e saper guidare quello che è il punto di vista del cliente. Quindi, fondamentalmente, nel giro di 20 giorni lavorativi, arrivati al 30-10, hai una potenzialità di influenzamento sui processi decisori del cliente notevole. Ottimo. Successivo webinar, nel webinar del 13 novembre, vedremo invece come comunico il prezzo e sostengo la richiesta di sconto. Sì, qui abbiamo lasciato un mese di tempo volutamente, un po' abbondante, per dar modo di mettere in pratica i quattro webinar precedenti. L'argomento prezzo è un argomento che va un po' strutturato, è un argomento che va sostenuto, l'argomento del prezzo va inserito all'interno di quelli che sono l'analisi delle esigenze, dei problemi del cliente. È una giornata di incontro dedicata alla gestione del prezzo e va il prezzo di pari passo con la richiesta dello sconto. Noi non siamo quelli che dicono che gli sconti non si fanno, noi non siamo quelli che dicono che è vietato fare lo sconto come se fosse un peccato mortale. Se c'è da fare lo sconto e se lo sconto è sostenibile all'interno della profittabilità del processo, voglio dire, si fa anche io quando compro una camicia e chiedo lo sconto, non è che vado all'inferno perché ho fatto lo sconto. L'importante è sostenere in chiave di valore, di profittabilità e di differenziazione rispetto ai competitor e di valorizzazione del nostro prodotto e servizio. Ma come comunico il prezzo? Ecco la parola. Come glielo vado a dire? Con quali argomenti io sostengo il prezzo? Come glielo vado a dire al cliente? Perché questo succede anche nella telefonata. Non è che questi webinar sono slegati gli uni dagli altri, perché anche in una telefonata il cliente mi dice ma lei signor Salomoni quanto costa questo suo prodotto? Ecco, come glielo vado a dire? Ma anche in una telefonata mi capita di dire o di sentire che il cliente mi dice vabbè mi fa un punto di sconto, mi fa uno sconto inferiore. Ecco, come vado a sostenere lo sconto? Quali sono le argomentazioni non che riducono lo sconto, ma come lo sostengo? Perché anche lo sconto va sostenuto in chiave di valore. Non ti dirò non dargli lo sconto, non ti dirò lo sconto non va fatto. Non è che dobbiamo fare la guerra allo sconto, se si tratta di fare uno sconto, ma per quali valori, per quale concessione, per quale scopo c'è da fare lo sconto. Il prezzo e lo sconto sono argomenti della trattativa, che vanno sostenuti e comunicati. Questo è il senso di questo quinto webinar. Ottimo. Il webinar del 27 novembre invece vedremo come concludere e creare referenze. Ecco, anche questo siamo nel momento della conclusione. C'è da dire che concludere è chiudere quella trattativa per quel contesto in cui si è sviluppata. Però noi concludiamo sempre, in ogni momento, ogni ragionamento che il venditore fa all'interno di tutto il processo di vendita è sempre un processo conclusivo. Sempre noi dobbiamo chiudere e aprire, chiudere e aprire, chiudere e aprire. Anche l'argomentazione del prezzo deve giungere ad una conclusione. Anche il sostegno dello sconto deve giungere alla conclusione. Voglio dire, noi concludiamo sempre. In questo caso la conclusione fa proprio riferimento all'atto terminale. Vero è che poi la vendita si chiude con l'incasso, la vendita si chiude con l'installazione, la vendita si chiude col post vendita. Comunque, siamo già dentro su questi argomenti, perché questi sono gli argomenti che noi andremo a trattare. Ma la conclusione è un atto creativo. Noi concluderemo quando il cliente ci crea delle referenze. Quando il cliente è talmente soddisfatto, ha acquisito talmente rilevanza all'aspetto fiduciario che ha nei nostri confronti, che lui diventa una referenza attiva fiduciaria. Cioè è capace, nella conclusione, di aprirci nuovi mercati, dai quali far partire le telefonate e riprendere la trattativa. È chiaro che questo atto creativo di referenze non è legato al numero delle visite. È un percorso che il venditore fa insieme al cliente, il venditore e il venditrice fa insieme al cliente per arrivare a dare fiducia in corrispondenza di quello che è stato il sistema di aspettativa dal cliente. L'obiettivo finale è creare il mercato fiduciario. Il mercato fiduciario è un mercato fatto dalle referenze. E se c'è crisi di mercato, a maggior ragione abbiamo bisogno di referenze. La referenza è un cliente che non è solo soddisfatto, non ha solo concluso quello che era l'oggetto del suo processo di vendita, ma è talmente centrato sui valori che noi gli abbiamo creato che è lui a crearci le referenze. Come fare a fare ciò? 27 novembre in questo webinar, insieme a Piero. Ottimo. Quindi a chi parteciperà a tutti i sei webinar, quindi sottoscriverà il corso completo, ci sarà come bonus un webinar ulteriore solo per chi accede a tutti i sei. Il 18 dicembre faremo invece un incontro che si chiama Conta il risultato, incontro online dal vivo e confronto sui risultati ottenuti. Perché è così importante quest'ultimo webinar, Eliano? E' importante perché a distanza di tre mesi dove vi abbiamo accompagnato su queste tematiche, ognuno di noi porterà i suoi risultati. Risultati che saranno sicuramente dei risultati positivi che dovranno essere rafforzati, ma laddove il risultato non è stato pari alle nostre aspettative, voglio dire è l'occasione per quadrare il cerchio e per dare un aiuto ulteriore nel trasformare gli obiettivi in risultati. Questo lo faremo tutti assieme, in modo tale che l'esperienza dell'uno possa servire all'esperienza dell'altro. Fatto salvo anche che in qualsiasi momento, attraverso i canali della scuola, si si può sempre mettere in contatto e essere di aiuto in tempo reale. Ottimo. Allora, vediamo altre due cose importanti, Eliano. La prima è che tutti questi webinar avranno ognuno un certificato di partecipazione dove ogni persona avrà la licenza e il certificato, la data dell'incontro. E' comunque una cosa importante anche per dimostrare a clienti, datori di lavoro, insomma, che si investe nella propria formazione. E poi andiamo a vedere un'altra cosa importante che è come si può accedere a questi webinar. Abbiamo pensato a tre formule, perché c'è quello che dice ma no, io preferisco averne solo uno. C'è chi dice no, io sono fanatico di farli tutti. Ognuno ha una visione differente e quindi abbiamo voluto dare un'opportunità a ognuno di queste persone. Allora, la prima possibilità di accedere a questi webinar è di partecipare al singolo webinar. Abbiamo un interesse specifico per uno di questi argomenti e acquistiamo direttamente uno di questi webinar, partecipiamo e quindi usufruiamo di questa opportunità. Se invece si ha piacere di partecipare a tutti i webinar, c'è la seconda soluzione. Ci si iscrive direttamente al corso completo e si partecipa ai sei webinar più all'incontro online dal vivo che è quello conclusivo pensato solo per chi ha sottoscritto tutti i sei webinar. Poi c'è un'altra occasione estremamente interessante, tanti hanno già usufruito di questa, c'è la terza soluzione, iscriversi direttamente alla nostra scuola, la Sales Business School, una scuola che già ha tutta una serie di lezioni registrate. Accedendo alla scuola, con un contributo mensile, si può partecipare a tutti i sei webinar che hai descritto, all'incontro online definitivo che hai descritto prima, avere accesso finché sei iscritta alla scuola a tutti i video che abbiamo già registrato e continueremo a registrare all'interno della nostra scuola. Ci sono centinaia di video e corsi che abbiamo già realizzati, pronti da vedere, quando si vuole e come si vuole. Quindi si può vederle da smartphone, si può vederlo dal tablet, si può vederlo dalla televisione. Ci sono tutte le possibilità e si possono vedere e rivedere tutte le volte che si vuole. In più, accedendo alla scuola, si ha accesso anche al gruppo Telegram degli studenti, quindi uno strumento per confrontarsi tra studenti anche con noi, ma anche tra studente e studente per confrontare le singole esperienze. E poi abbiamo un incontro settimanale, quindi quattro incontri mensili, dove gli studenti ci pongono delle domande e noi in un'ora rispondiamo a tutte le domande della settimana. Penso che quest'ultima forse sia la più interessante perché permette di avere, oltre ai sei webinar, tantissima altra documentazione e un accesso diretto alla possibilità di contattarci e di procedere nella propria formazione. Ma direi che possiamo concludere sin da qui le cose ce le siamo detti. Voglio dire, caro venditore, cara venditrice, sono sei argomenti, non sono sette, sono sei argomenti. Con noi o senza di noi questi sei argomenti tu te li becchi tutti, te li becchi tutti, se vuoi. Se non vuoi accadranno ad altri, ma sono sei questi argomenti. Perché dovrai fissare la telefonata a freddo, ma non al solito cliente a quello freddo. Lo devi fare, se vuoi ottenere risultati. Ci devi andare la prima volta e quindi ti capiterà di domandarti cosa cavolo gli vado a dire la prima volta. Dovrai superare delle obiezioni e saper fare delle domande per condurre la trattativa. Con noi o senza di noi dovrai affrontare l'argomento del prezzo e sostenere lo sconto. Con noi o senza di noi dovrai essere in grado di giungere alla conclusione e soprattutto di essere in grado di costruire le tue referenze attive. Sono argomenti semplici, semplicissimi. Sono argomenti concreti. Più di così non so cosa dirti. Se vuoi vendere devi creare valore attraverso questi sei passaggi. Con Piero e il sottoscritto ti aiutiamo, ti seguiamo e quindi perché non essere presenti. A presto! Ciao Piero! Ti aspettiamo all'interno del webinar e all'interno della scuola. Ciao a tutti! Ciao a tutti!